Starlink è il progetto di internet via satellite fondato dal miliardario Elon Musk. Il sistema attualmente conta circa 3500 satelliti ma l'obiettivo è quello di superare i 12.000. Come sappiamo le aree provinciali e rurali, ancora oggi, presentano delle connettività di bassa qualità e il sistema Starlink, essendo basato sull'utilizzo di circa 3500 satelliti che orbitano attorno al nostro pianeta, potrebbe portare internet anche in questi luoghi. Con l'acquisto dello Starlink kit l'utente riceverà un router Wi-Fi, la cavetteria necessaria e l'antenna auto-orientante. Unico requisito, l'antenna deve avere una chiara visione del cielo per poter comunicare efficacemente con i satelliti. Una volta assemblato il tutto, sarà possibile connettersi in pochi minuti alla rete internet via satellite. Le prestazioni di questo sistema sono più che solide, specialmente considerando che si rivolgono ad utenti che non hanno valide alternative tradizionali, garantendo data rate compresi tra i 50 e i 150 Mbps e una latenza tra i 20 e i 40 ms. I costi di questa soluzione, per contro, sono generalmente più elevati rispetto a soluzioni tradizionali di cablaggio in rame o fibra, oltre ad essere, ovviamente, più difficili da sviluppare, gestire e mantenere. Il sito di Starlink mette a disposizione una mappa dove è possibile vedere tutte le zone attualmente coperte dal servizio e quelle che lo diverranno prossimamente. L'Italia è tra i paesi in cui questa tecnologia è già disponibile. I costi, come detto, sono generalmente più onerosi rispetto a soluzioni tradizionali, infatti saranno necessari 450 euro per l'acquisto dei vari dispositivi ed un canone di 50 euro mese, oltre al costo della spedizione.